cercheremo di fare un'edizione più leggera più divertente più comodi sperando di ritrovare lo spirito delle prime edizioni anche se sono passati 13 anni quindi i concorrenti sono molto scafati e trovare persone spontanee motivate è molto difficile ma lo sforzo va in quella direzione quindi un'edizione più light un'edizione in cui si riscoprano anche i valori del del gioco perché comunque è un gioco dove c'è un monte premio in palio stiamo pensando a delle novità per sottolineare insomma anche questo tipo di aspetto che riguarda grandi fratelli noi in tanti anni in realtà non abbiamo mai cercato una tipologia precisa quelli che ci emozionano quelli che ci fanno ridere quelli che hanno delle storie da raccontare quelli che hanno un'empatia immediata con noi vanno bene ovviamente quest'anno cercheremo dei personaggi meno litigiosi meno problematici meno cupi che diano un sapore diverso all'edizione parto dalla fine le modalità da tanti anni ormai noi mandiamo in giro per l'italia delle squadre di scouters che cercano di trovare delle persone a cui non verrebbe mai in mente di fare grande fratelli proprio per riuscire a recuperare una spontaneità che per certi versi è un po scemata anche perché insomma sono passati tanti anni diciamo che abbiamo cresciuto più di una generazione a grande fratello dopodiché c'è un casting online che si fa su internet ci sono gli open che abbiamo fatto a bologna milano eccetera e queste sono le modalità abbiamo visto per ora migliaia di concorrenti cercando quelli giusti e sperando di trovarli